Eccoci, allora, siamo nella sala grande, questo è il palcoscenico, la pista, adesso è ruota, sono DJI in fondo e l'etua. Girando di qua c'è il bar, il primo bar, lato strano. Qui qua, l'ingresso come abbiamo appena girato, la pista su destra, poi proseguiamo, di qua si intravede la saletta piccola che è un po' rialzata. Secondo bar, lato mare, di fianco ci si passa per accedere alla seconda sala, dove c'è il bouquet, di qua. Tre scalini e siamo nella sala acquario, che è questa qua, con lo schermo di proiezione di qua e la console.